Asa Cars è un'azienda fornitrice di servizi di vendita e noleggio di autoveicoli e motoveicoli. Dal 10 aprile 2021 siamo attivi con la nostra terza sede in via Vittorio Veneto 22 a Cava dei Tirreni. La cosa che mi preme rimarcare è il fatto che i ragazzi hanno cercato la vittoria fino alla fine. Non era affatto una partita semplice perché non riuscivamo a trovare il gol nonostante oggi abbiamo creato un buon numero di occasioni da gol. Questo ci stava facendo innervosire il fatto di non trovare il gol. Però penso che va dato atto e merito ai ragazzi e ancora una volta chi è subentrato dalla panchina ha dato una grossa mano a quelli che avevano partecipato nella prima parte della gara. Per quanto riguarda il lavoro che ci aspetta da fare io non credo che tutto si possa fermare a una prestazione. Io oggi della partita sono molto molto contento e mi trovo spesso a cambiare modulo perché non c'è bisogno che ripetiamo che c'è qualche assenza specialmente negli under che ci costringe a fare scelte forzate. E con questo è un ulteriore complimento ai giocatori perché loro mi danno sempre grandissima disponibilità e oggi ripeto in campo hanno fatto una partita secondo me la più bella da quando io sono l'allenatore. Poi è normale tutto è opiniabile però abbiamo creato 5-6 occasioni da gol e alla fine la perseveranza e l'insistenza ci ha premiato secondo me giustamente. Diciamo che la dedica in primis che ci tengo a fare è per la mia famiglia e per la mia figlia che è nata da poco e quindi la dedica va tutta a loro. Per quanto riguarda la partita è stata una partita penso dal primo al novantesimo sotto il nostro controllo dove la squadra ha dimostrato di volere a tutti i costi tre punti. Nel finale penso che si sia visto soprattutto da parte di chi è entrato che ha dato un contributo in più nel cercare di agguantare il risultato a tutti i costi. A livello personale ovviamente sono in cerca della miglior condizione per cercare di dare ancora una mano ancora in più ai miei compagni. Sono felicissimo per la vittoria per i miei compagni. Grazie.